Cari amici porrenonesi, ho oggi qui il grande onore di presentarvi una iniziativa proposta dalla Polisportiva Villanova Porrenone, Scorpion Club Porrenone, Libertas e Sakai Buda Porrenone per una proposta didattica sul judo. Infatti abbiamo qui nel Triveneto da una settimana tre grandissimi maestri, tra cui il primo è il maestro Daigo, decimo Dan, la massima personalità attualmente al mondo come judo didattico. Beh lui ha iniziato a venire in Italia negli anni cinquanta e appunto gli chiediamo come l'ha trovato questa volta il tour che abbiamo organizzato, gli appuntamenti judoistici. L'anno scorso quando ha visto questo stage ha visto molto buono, ha visto, però questa volta è ancora riolato. Per lui è stato molto piacere vederle e vorrei vedere ancora più avanti come andrà avanti. Adesso chiediamo al maestro Daigo che è un insegnante del Kodokan di Tokyo. Sappiamo che il Kodokan è la massima università del judo mondiale. Qual è la situazione del judo giapponese che negli ultimi tempi è ritornato fortissimo a livello agonistico? È stato un cambiamento da Kano Yukimitsu, è cambiato Uemura Haruki, è stato un po' di cambiamento, però stanno facendo per diffondere meglio nel mondo judo il più possibile. In conclusione passerei la parola al maestro Piero Comino, cintura nera Settimo Dan, responsabile mondiale del judo master per l'IGF, il quale ci presenterà il curriculum di questo importantissimo maestro. È un onore e un piacere avere l'occasione di presentarvi il maestro Daigo, che come avete capito dalla introduzione è una personalità a livello mondiale di ineguagliabile esperienza e capacità. È qui a Pordenone per un motivo non solo legato a un turismo occasionale, ma perché per un apprezzamento e uno sforzo di sostegno a livello e alla qualità del judo friulano, pordenonese e italiano. L'iniziativa della politica protettiva a Villanova assieme a Sekai Budo, Pordenone e Scorpio, Pordenone, porta così il vertice del judo mondiale nella vostra città. Il maestro Daigo ha un passato di agonista, di grande eccellenza, è stato due volte campione del Giappone, ha diretto la nazionale giapponese a due Olimpiadi, fino all'Olimpiadi di Montreal. Tuttora riveste un'importante posizione come consigliere del presidente del Kodokan e della federazione giapponese e dirige alcuni insegnamenti per quanto riguarda la specialità dei kata. È una personalità eccezionale, accompagnata dalla signora Taeko Nagai e dal signor Matsumoto, ambedue specialisti di judo, che sicuramente con il loro lavoro e il loro contributo aiuteranno ad inalzare ancora di più il livello del judo di Pordenone, non solo, anche il judo italiano. Pordenone è un po' la capitale del judo d'Italia in questi giorni, e per questo dobbiamo ringraziare il presidente del settore judo, Edoardo Muzin, che sostiene l'onero organizzativo e soprattutto con degli indirizzi ben precisi è molto attento ai valori educativi, non solo a quelli sportivi che sono iscritti nella nostra disciplina. Grazie